Tanti purtroppo mi dicono, avevo visto tutta la Toscana e mi mancava proprio Pistoia, questo dispiace un po', è chiaro, ci sono un po' di cenerentole e questo è normale in tutte le regioni, però riuscire a farla uscire dall'angolina non sarebbe male, io non ho ricette perché non sono un'esperta di marketing, ma evidentemente qualcosa manca. Continua in città il dibattito sulle prospettive del turismo pistoiese, innescato da ConfCommercio, secondo cui, dati alla mano, Pistoia cresce ma meno rispetto ad altre città toscane. Effettivamente altre città crescono di più, anche città che si possono paragonare come dimensione a Pistoia, però Luca ormai ha preso, forse ha cominciato molto prima a promuoversi in modo diverso, con delle manifestazioni veramente di grandissimo richiamo. Ci possiamo paragonare con Arezzo che anche però ha trovato invece una formula vincente in un mercatino di Natale che l'ha fatta conoscere tantissimo, quindi anche Arezzo è decollata tantissimo. Da distinguere sono le presenze nelle strutture e l'effettivo numero di turisti che visita la città e quindi frequenta locali, negozi e musei. Ci sono sì le presenze di persone che dormono a Pistoia o nel territorio di Pistoia, ma questo non comporta il fatto che aumentino le presenze in città di visitatori della città. Ecco, a proposito da Pistoia Capitale della Cultura 2017 ad oggi, il trend qual è stato proprio rispetto ai gruppi? Ma rispetto ai gruppi che monitoriamo noi, che siamo un'associazione di guide, dal picco di più di 400 gruppi nel 2017, siamo, vabbè, senza considerare gli anni del Covid, ovvio, siamo arrivati, ora stiamo ritornando alla metà, quindi verso 200-250 gruppi. 2017, anno della cultura, c'è stato un calo drastico, quello sicuramente. Cosa manca? Manca un pochino forse anche dello spirito dell'accoglienza. Mi dispiace dover far polemica, io mi sono trovata l'anno scorso, nei giorni non di Ferragosto, ma ora il giorno prima, ora il giorno dopo, con tantissimi locali chiusi, tantissimi caffè chiusi, con le persone che erano venute a vedere Pistoia, che mi dicevano, Pistoia non accoglie. Grazie. 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 Grazie.